Un market della droga nei giardinetti di Via Arno, ad Arezzo, alla luce del sole, a fermare un tunisino sono stati gli uomini della squadra mobile di Arezzo. L'uomo, 49enne, pluripregiudicato per reati specifici, aveva adibito il vialetto sovrastante il cavalcavia di Via Arno ad un vero bazar della droga. Tutti i giorni, alle 12, arrivava con la propria bicicletta e fino alle 18, vendeva cocaina ed eroina ad innumerevoli tossicodipendenti, alcuni dei quali provenienti anche da fuori città. Il pusher, sottoposto anche alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Arezzo, si addentrava nel boschetto adiacente al cavalcavia e confinante con la ferrovia, prima di ogni singola cessione. Proprio in quell'area verde, grazie anche alla folta vegetazione e alla presenza di numerosi rifiuti, nascondeva la droga. I servizi di osservazione e appostamento degli uomini della squadra mobile hanno permesso di accertare tre cessioni di eroina e cocaina ad altrettanti tossicodipendenti e successivamente di individuare il nascondiglio, una buca scavata in prossimità di un albero dove è stato ritrovato un ovetto in plastica contenente 12 involucri termosaldati di cocaina e 5 di eroina. Il 49enne, al momento del blitz, ha tentato la fuga ma è stato bloccato ed arrestato. Adesso si trova agli arresti domiciliari.